Buongiorno a tutti, sono Toshiko Tanaka e vengo da Hiroshima. Il 6 agosto di 70 anni fa, cioè del 1945, quando la bomba atomica è stata sganciata su Hiroshima in Giappone, avevo 6 anni e 10 mesi. Facevo il primo anno delle elementari e mi trovavo a 2 chilometri e 300 metri dall'ipocentro, dove l'ordigno ha colpito. In realtà, fino a una settimana prima, la mia famiglia abitava a poco più di 500 metri dall'ipocentro. Se non avessimo traslocato, non sarei qui a parlare a voi, perché probabilmente non mi sarebbero rimaste nemmeno le ossa. Ma per fortuna la bomba mi ha risparmiato almeno la vita, nonostante le ustioni e le radiazioni che ho subito. Erano le 8 e un quarto di mattina e stavo andando a scuola. Uno dei miei compagni urlò «Guarda, i bombardieri nemici!» Alzai gli occhi e vidi due aerei. Un istante dopo sono stata colpita da un lampo omicidiale, come migliaia di flash accesi insieme. Poi tutto intorno era diventato bianco abbagliante, non ci vedevo più nulla. Poiché mi ero istintivamente coperta la faccia con il braccio destro, mi ustionai la testa, il braccio e il lato sinistro dietro il collo. Poco dopo tutto si fece buio pesto questa volta, come la notte. Perché si era sollevata una grande quantità di polvere calda, che ha coperto il cielo, oscurando i raggi solari. Era il cosiddetto fungo atomico, si chiama così per chi lo ha visto dall'alto. Invece io ero sotto e mi sono trovata con la bocca piena di polvere e sabbia, una sensazione così sgradevole che me la ricordo ancora oggi. Io non capivo cosa fosse successo. Ero intontita, ma subito dopo mi sono accorta dei dolori atroci e ho notato le ustioni sul braccio destro che si trasformavano in vesciche estese. Ero terrorizzata, fuggivo con un grande senso di smarrimento. Comunque, quando finalmente sono arrivata a casa, l'ho trovata completamente distrutta. Per fortuna mia madre era salva, ma stentò a riconoscermi. I miei capelli erano tutti bruciati, i vestiti a brandelli e la faccia e il corpo completamente anneriti. Non ero più riconoscibile. La sera stessa mi è venuta una febbre alta e sono entrata in coma. Ma molti medici erano morti e gli ospedali distrutti. Non era possibile curare o medicare. La vita e la morte dipendevano unicamente dalla forza fisica di ogni persona e dalla sua fortuna. Mia mamma mi disse più tardi che si era rassegnata alla mia morte. Anche la mia sorellina di quattro anni è stata colpita da un pezzo di vetro e aveva una ferita profonda sulla fronte. Mio padre, invece, non c'era perché era stato mandato al fronte. Da un buco del tetto ho visto il cielo azzurro, come il giorno prima. Benché piangessi per i dolori atroci delle ustioni, quella bellezza mi ha colpita profondamente. E ancora oggi che ho 77 anni, continuo a incoraggiarmi. Mi sembrava che il cielo volesse dirmi che c'era sempre un domani. Se sono riuscita a superare tutte le difficoltà, potrebbe darsi che sia grazie al ricordo di quel cielo azzurro. In un attimo, tra l'uno e l'altro battito delle mani, una sola bomba è riuscita a cancellare una città, uccidendo 140.000 persone a Hiroshima e tre giorni dopo 70.000 persone a Nagasaki. Naturalmente nessuno dei miei ex compagni di scuola, dove andavo fino a sei giorni prima, è stato risparmiato. All'epoca abitavamo con una zia giovane, di poco più di vent'anni, che era fuori quella mattina. Non è mai tornata, neanche le sue ceneri. Ma tra gli uccisi c'erano pure 12 prigionieri statunitensi. Qualcuno di loro aveva meno di vent'anni. Sono stati uccisi dalla bomba atomica del loro stesso paese. Questo è il risultato della guerra, così irragionevole e crudele. Dicevo che da quella stessa sera ero entrata in coma, ma fino alla perdita di conoscenza. Mi ricordo benissimo ancora oggi tutti gli orrori. Davanti a casa passavano tantissime persone moribonde. C'erano anche numerosi bambini, che avendo probabilmente perso i genitori, seguivano adulti sconosciuti. Nella maggior parte dei casi avevano i vestiti bruciati, quindi anche le ragazze giovani erano quasi nute. Loro camminavano con le braccia alzate davanti e dalle loro unghie pendeva la pelle staccata dalle spalle in giù. Sembrava un corteo di fantasmi. Io ancora oggi, se vedo un pomodoro arrostito, ho un flashback e mi vengono i brividi. Come sapete, il pomodoro in contatto con il calore si spella. La stessa cosa accadeva anche agli esseri umani. Ma più stupefacente era vedere davanti casa morire, uno dopo l'altro, persone, adulti e bambini, che erano apparentemente illese. Era a causa dell'enorme quantità di radiazioni a cui si erano esposte. Ma all'epoca nessuno sapeva delle radiazioni. Nonostante la difficoltà immane. Mia madre cercava di dare un riparo a tante persone fuggiasche sotto il tetto distrutto di casa nostra. Tra questi c'erano due sorelle, una di 15 anni che portava sulle spalle la piccola di due anni, gravemente ostionata. Ho sentito più tardi che la sorellina è sopravvissuta, mentre la sorella grande, che sembrava illesa, era deceduta dopo poco. Probabilmente si era esposta una quantità letale di radiazioni. Nel mio caso i segni di ustione hanno impiegato parecchi anni a sbiadirsi, mentre sono rimasti gli effetti delle radiazioni. Attorno all'età di 12 anni cominciarono a manifestarsi sintomi tipici. Mi hanno diagnosticato un'anomalia nel numero di globuli bianchi. Avevo molto spesso qualche linea di febbre, mi stancavo facilmente e capitava sovente un collasso. Continuamente mi veniva un'infiammazione dentro la bocca che rendeva molto faticoso il mangiare. Ancora oggi, quando accumulo la stanchezza, mi vengono herpes dolorosi che non mi lasciano dormire, oppure un'emorragia intestinale per cause sconosciute. Sadako, la protagonista del cartone animato che avete visto, aveva 4 anni meno di me e si era iscritta alla stessa scuola media dove ho studiato io. Lei fu colpita dalla bomba all'età di 2 anni, si ammalò di leucemia e morì all'età di 12 anni. Ma vorrei che ricordaste, a Hiroshima c'erano tante, tantissime Sadako, bambini morti per leucemia. Lei è un simbolo e il monumento che hanno eretto con le collette promosse dai suoi ex compagni di scuola è dedicato a tutti i bambini vittime della bomba atomica e della guerra. Oggi c'è una campagna che si chiama ICAN, promossa dai paesi membri dell'ONU non possessori delle armi nucleari, affinché sia stipulato un trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Si basa sull'idea che le armi nucleari non sono ammissibili per ragioni umanitarie. Questo movimento dà una speranza a me, Hibaksha, che significa vittima della bomba atomica. Mi fa pensare che potrebbe essere possibile per me vedere prima di morire il raggiungimento del trattato all'ONU. Non è infatti un'utopia, perché ci sono casi come quelli delle mine anti-uomo, le bombe a grappolo o le armi chimiche, che grazie alle iniziative dei cittadini sono state messe al bando. Mi auguro con tutto il cuore che sopra la testa di voi giovani e delle generazioni future ci sia un bellissimo cielo azzurro, libero dalla guerra e dalle armi nucleari. Grazie.